Ci sono giornate più speciali di altre. Giornate in cui bellezza e bontà assumono un valore particolarmente emozionante. E in cui mi piace ancora di più ritrovarle e racchiuse qui dentro e condividerle. Il cuore profumato di una nocciola intera. Il cioccolato più cremoso. E la croccantezza del wafer. Ferrero Rocher. È Natale. Assapora la bellezza.